Musica Sentito l'emersione dalla mia Atlantide, la performance poetico-pianistica curata e condotta da Claudio D'Antoni in programma sabato 5 febbraio alle 17 nella Sala Verti del Teatro della Fortuna, con ingresso gratuito. L'evento si inserisce nell'ambito del progetto Musica e Poesia. Sabato alle ore 17 alla Sala Verti abbiamo un appuntamento di Musica e Poesia con il musicista e musicologo Claudio D'Antoni. E' questa un'iniziativa che rientra in un progetto di Musica e Poesia che riguarda anche il coinvolgimento delle scuole. Le scuole che aderiscono al progetto SCIRE affrontano poesie, alcuni cercano di metterle in musica, intervengono anche altri musicisti e poeti come Umberto Fiori, Recalcati e La Rosadini ed è un progetto che avrà un momento culminante il 21 marzo, giornata della festa mondiale della poesia. Questa performance di Claudio D'Antoni farà ascoltare musiche di autori russi alternando questi brani con delle letture di autori sempre della letteratura russa. L'importanza è basata principalmente su Rachmaninov e sulla poetica e la personalità di quest'autore.